Diventare donatore rende l'uomo una persona libera. Chi avesse intenzione di diventarlo può recarsi presso una sede o un centro di raccolta Avis o presso un servizio trasfusionale dell'ospedale della propria città. Ci sarà subito un primo colloquio con il medico che aiuterà a stabilire l'idoneità ed individuare quale tipo di donazione è più indicata a seconda del gruppo sanguigno. La donazione deve essere fatta in maniera responsabile, cioè deve essere fatta con preparazione, nel senso che da quel dono di sangue viene scomposto il sangue nelle sue componenti ed ogni paziente riceve il componente idoneo. Il sangue che doniamo che percorso fa e come viene conservato? Dopo aver eseguito uno screening iniziale in cui vengono presi parametri vitali importanti ma anche il controllo delle transaminasi e l'anamnesi e un questionario di autoesclusione sullo stile di vita e le domande particolari, il donatore passa in sala prelievi dove sono delle bilancie automatiche che raccolgono dai 400 ai 500 ml di sangue. Poi il sangue viene lavorato e successivamente quando la sacca viene validata al donatore gli vengono inviati i risultati dei test e delle analisi che vengono effettuate e viene anche specificato se il suo sangue è stato utilizzato e come è stato utilizzato. Nel periodo estivo per esempio le donazioni subiscono un netto calo e in questo caso l'ospedale deve farsi trovare pronto all'evenienza congelando il sangue precedentemente donato per le situazioni di emergenza. Qual è lo scopo di avere le mazze congelate? E' quello di avere sempre una riserva sia per i gruppi rari e anche i fenotipi rari i gruppi rari come può essere lo 0 negativo, il B negativo, la negativo ma anche i fenotipi particolari. Poi il problema del congelamento dei globuli rossi è importante perché ci permette di conservare i globuli rossi freschi che vengono congelati entro una settimana dal prelievo e di essere utilizzati nel momento del bisogno. E' chiaro che in quel momento siamo nella possibilità di non dover rinviare gli interventi e quindi di assistere tutti i pazienti che hanno bisogno.